Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Questa notte l'ennesima tragedia sulle strade dell'Aretino a perdere la vita lungo la E78, un 65enne. Ancora una tragedia della strada nell'Aretino. Un uomo di 65 anni ha perso la vita nella notte lungo la E78 all'altezza di Tegoleto, in un punto in cui c'è un cantiere con restringimento della carreggiata. La vittima si chiamava Domenico Dezzani, originario del Piemonte ma residente nel comune di Monte San Zavino. Lo schianto fatale attorno alla mezzanotte è quando una vettura guidata da un quarantenne ed un'altra condotta invece dal 65enne sono state coinvolte in un tamponamento. Entrambe sono finite fuori strada, un terribile impatto contro il guardrail. Poi i veicoli sono andati a terminare la propria corsa nella boscaglia a bordo carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi dell'emergenza urgenza. All'ora arrivo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso del 65enne, mentre il quarantenne è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo. Allavorò anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada. I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri che dovranno adesso chiarire l'esatta dinamica dello schianto. La salma della vittima si trova nelle camere mortuarie dell'ospedale San Donato a disposizione della magistratura. Un altro incidente, una tragedia sfiorata nella notte in via Lepiero della Francesca. Vediamo cosa è successo. Purtroppo questa curva è un po' presa qualche volta a forte velocità. Il ragazzo che guidava ha perso il controllo dell'auto. È andata bene perché noi avevamo i corsi fino alle 10.30 di sera e l'incidente è successo a mezzanotte e mezzo. Quindi è stata una tragedia sfiorata. È stata senza dubbio una tragedia sfiorata quella che si è consumata nella notte in via Lepiero della Francesca, dove è stata devastata la sede di un'agenzia formativa da un'automobile finita contro la vetrata. Nel centro storico bisognerebbe starci anche un po' attenti. Ci può essere un pedone, ci possono essere persone comunque sui marciapiedi. Un minimo di accortezza, un minimo di buon senso ci vorrebbe. È successo attorno alla mezzanotte e mezzo l'auto uscita dalla carreggiata proprio in questo punto, come si vede ancora dai segni. E poi è andata a impattare alcuni metri dopo contro la struttura. La corsa dell'auto infatti si è conclusa contro la vetrata dell'aula, fortunatamente vuota in quel momento. Proprio all'interno questa volta sembrerebbe che è andato senza toccare il freno perché l'impatto è stato violentissimo. Come potete vedere è entrato proprio all'interno. Ingenti danni alla struttura, infissi devastati, vetrata in frantumi, i banchi, uno ammassato sull'altro, illeso fortunatamente il conducente dell'auto. Questa stanza è inagibile perché noi siamo accreditati regionalmente, la stanza ugualmente ha un accreditamento regionale. Il locale è inagibile fino a che non viene ripristinato come da normativa regionale. Quindi noi, a essere proprio molto positivi, si spera che per luglio si riesca a ripristinare. Non si tratta del primo incidente accaduto in questo punto, un punto nevralgico del traffico cittadino. Dal 2015 che siamo qui è già la sesta volta che ci vengono rotte le vetrate per incidenti. Abbiamo fatto molteplici segnalazioni, speriamo solo che vengano ripristinati delle sicurezze esterne che laddove una persona perdesse il controllo, perché comunque può succedere, almeno impatti meno all'interno della scuola. Sicurezze esterne che tra l'altro sono state rivelte nel corso di un altro incidente stradale. Sì, un altro incidente che è avvenuto un mese fa, dove sono stati portati via tutti i pioli, invece dall'altro lato noi non siamo stati toccati, però poteva essere un'altra tragedia. Anche lì o comunque se avviene di giorno dove ci sono i nostri ragazzi che per prendere un caffè magari si affacciano sul marciapiede, diventa una situazione veramente pericolosa. Noi siamo veramente preoccupati. Ancora uno schianto, in questo caso alle porte di Arezzo, attorno alle 16.20 a San Leo, dove un'auto è finita fuori strada a seguito di un tamponamento sul posto. i sanitari dell'emergenza urgenza che hanno soccorso una cinquantenne che era a bordo della vettura e che è stata portata all'ospedale San Donato di Arezzo da un'ambulanza della Croce Rossa. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale per i rilievi di legge. E adesso parliamo di politica. È ormai prossimo il weekend di sabato 8 e domenica 9 giugno quando si svolgerà l'elezione dei membri spettanti all'Italia nel Parlamento europeo ma si deciderà anche il futuro primo cittadino in 26 comuni della provincia. Vediamo come si vota. Sabato 8 e domenica 9 giugno si svolgerà l'elezione dei membri spettanti all'Italia nel Parlamento europeo e in 26 comuni della Retino anche il rinnovo di sindaco e consiglio comunale. 55 i candidati a sindaco pronti a darsi battaglia. Con il via libera alla possibilità del terzo mandato consecutivo per i sindaci compresi entro i 15.000 abitanti nella Retino in molti hanno colto questa occasione. Tra le curiosità di questa tornata elettorale i quattro candidati sindaco che correranno da soli. Elonora Ducci a Talla, Emanuele Ceccherini a Ortignano Raggiolo, Franco Doria a Sestino e Marco Ermini a Castiglion Fibocchi. La loro elezione sarà valida solo se andrà a votare il 40% degli aventi diritto e ogni candidato porterà a casa il 50% dei voti altrimenti sarà commissariamento con elezioni tra un anno. Tra i comuni sotto i 15.000 abitanti c'è il caso di Subbiano. Qui la battaglia si annuncia agguerrita con ben 5 candidati a sindaco. I comuni invece con più di 15.000 abitanti e quindi destinati ad un eventuale turno di ballottaggio e se nessun candidato raggiungerà la maggioranza al primo turno sono Cortona e San Giovanni Valdarno. Il caso più caldo resta quello di Cortona in 5. Sono in Lizza per la poltrona di sindaco. I seggi saranno aperti dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. L'Asla Toscana Sud-Est verso la certificazione di genere. Questa mattina ha la Zandonato un corso di formazione. Noi non vogliamo discriminazioni. Quello che noi cerchiamo di fare è proprio creare insieme una serie di percorsi che rendano ciò che è diverso in azienda un valore aggiunto. L'Asla Toscana Sud-Est verso la certificazione di genere all'auditorium dell'ospedale San Donato di Arezzo un corso di formazione che è stato anche l'occasione per fare il punto della situazione. Il piano di uguaglianza di genere promosso dalla Commissione Europea era stato approvato dall'azienda sanitaria lo scorso ottobre anche con l'istituzione della figura dei DNI Diversity, Equity and Inclusion Manager. Siccome i tempi sono maturi abbiamo pensato come azienda di iniziare a fare il nostro bilancio di genere fino ad arrivare alla certificazione di genere. Cosa significa? Studiare all'interno dell'azienda quali sono quelle diversità o quelle peculiarità che riguardano differenze nell'età, nelle posizioni di lavoro, la ritribuzione, le diversità anche nel prendersi cura a casa delle proprie persone. In modo tale che l'azienda possa costruire sulla base di questo bilancio di genere le azioni per far sì che tutti possano dedicarsi contemporaneamente il lavoro anche alla propria vita privata. Succede proprio che c'è una forbice molto particolare nel bilancio, magari anche in ambienti molto femminili, nelle posizioni al vertice si apre, ma nemmeno dove c'è un concorso per cui a parità di merito è proprio che è una realtà per le donne spesso l'accesso è anche condizionato da una maggiore richiesta magari mancanza ai servizi per cui soprattutto le donne che lavorano fanno più ricorso a certe possibilità ma questo incide anche poi sulla possibilità di carriera. E allora fare un bilancio genere vuol dire anche cercare di capire come abbattere e creare percorsi più virtuosi. Ancora sanità con visite e vaccinazioni gratuite destinate alle donne anche l'ospedale del Valdarno aderisce all'iniziativa Open Day Prevenzioni al Femminile del 19 giugno per la quale sono aperte le prenotazioni. La fondazione Onda ETS promuove così la prima edizione dell'Open Day dedicato alla prevenzione alla femminile offrendo negli oltre 160 ospedali Bollini e Rosa italiani servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione individuando varie aree specialistiche. Mercoledì 19 giugno all'ospedale della Gruccia visite senologiche decografiche e vaccinazioni per la prevenzione da HPV. E adesso voltiamo pagina il viaggio di Va dove ti porta il bus è ormai giunto alla conclusione. Un progetto didattico regionale promosso da Autolinea Toscani che ha visto la partecipazione di ben 76 classi fra queste anche la quinta della scuola primaria consolatrice e della scuola primaria Leonardo Bruni. Il progetto prevedeva la realizzazione di un percorso didattico di sei ore a classe finalizzata ad incentivare l'uso dei mezzi pubblici ma anche fornire gli strumenti di base per muoversi in autonomia e con consapevolezza nella città fornendo l'immagine del bus non solo come mezzo di trasporto ma anche come mezzo di incontro e socializzazione evidenziando il concetto di bene pubblico per l'intera collettività. E ancora a scuola a Monte San Savino sono stati consegnati materiali scolastici donati da un supermercato. Oggi innanzitutto giornata importante qui a Monte San Savino per noi del Carrefour perché appunto si completa un progetto che era iniziato ormai da qualche mese che grazie al contributo dei nostri clienti ci ha permesso di donare al plesso scolastico di Monte San Savino del materiale didattico e ludico per i bambini appunto delle scuole. Direi che è stata un'iniziativa importante che ci ha avvicinato al territorio e che ha visto partecipe anche la nostra azienda l'Etrure Retail perché abbiamo deciso di raddoppiare il contributo che già i genitori sono riusciti a raccogliere facendo appunto i loro acquisti presso il nostro supermercato. Tutto ciò diciamo si completa oggi con questo primo ciclo ma ci diamo già appuntamento a settembre per riparlare di una nuova edizione perché appunto ha dato molta soddisfazione sia alla scuola agli alunni ma anche a noi che ci rende vicini al territorio e ci rende partecipi nell'attività dove in realtà poi insita anche la nostra azienda. Questa mattina invece centinaia di bambini in festa da tutta la provincia per la prima edizione di AgriKids giornata conclusiva del progetto lo sviluppo sostenibile e l'educazione alimentare organizzata da Coldiretti da Zero Spreco di Aise Impianti presso la centrale di Recupero che per l'occasione ha ospitato una maxifattoria e un'abba di riciclo dove i piccoli hanno partecipato a laboratori sulla semina sulla casificazione sulla filiera dell'olio ma hanno anche impastato pane cucinato e riciclato nello spazio di Zero Spreco con il Mumec la banda dei piccoli chef e con gli astrofili. In Pescaiola invece sabato 8 giugno torna la grande festa di quartiere. Spettacoli eventi shopping negozi aperti aperitivi e cene sotto le stelle torna la grande festa di Pescaiola l'evento targato confcomercio che tocca le 11 edizioni. E se è l'undicesima edizione dicevo prima un motivo ci sarà forse è la più la più sentita la più particolare come dicevo sono più che manifestazioni commerciali sono feste di quartieri che sono quartieri che diventano quasi frazioni quindi con un forte senso di appartenenza in questo caso come dire promosso e con la loro funzione da parte anche dell'associazione di categoria. Sabato 8 giugno dalle 17 a luna di notte la grande festa estiva che animerà l'intera area di via Alessandro Dalborro via Benedetto Croce e largo primo maggio. È un momento molto importante è fortemente voluta dai commercianti di questo bellissimo quartiere che sono tanti perché sono oltre 50 le attività che aderiscono a questa bella iniziativa che per quella sera come dire si metteranno fra virgolette in mostra per farsi scoprire o riscoprire dalle persone che vorranno passare qualche ora di divertimento e di svago. Qui effettivamente loro ci stanno 365 giorni all'anno e con le loro luci accese sono un presidio molto importante. Noi stiamo lieti di partecipare anche per questo anno a questo evento di pescaiola da vivere proprio perché nei nostri principi nella nostra storia nel nostro statuto la nostra banca è fortemente radicata nella crescita economica del territorio dove anche essa lavora soprattutto con la consapevolezza dell'importanza del legame con le associazioni di categoria che rappresentano un elemento indispensabile per la crescita del territorio. Per gli amanti dello shopping promozioni e offerte nei negozi della zona sarà poi la gastronomia una delle grandi protagoniste della serata con gli esercizi del quartiere ai quali si aggiunge l'area street food immancabili spettacoli di intrattenimenti musicali ed infine un'area dedicata ai più piccoli. Novità di questa edizione la partecipazione di due associazioni della zona l'associazione archeosofica con una dimostrazione dal vivo della pittura iconografica secondo antiche tecniche e l'associazione Artes nel cuore del legno che invece eseguirà una scultura in basso rilievo. Ci saranno davvero tante occasioni per fare questa festa e per animare ancora di più un quartiere che già di per sé è molto vivo ma che in questi momenti dilata con le sessioni serali, notturne questa vitalità naturale. Basari la collezionista delle vite dei grandi artisti è il titolo dell'appuntamento di venerdì 7 giugno alle 18 presso la sala conferenze della biblioteca Città di Arezzo dove Francesca Chieli storica dell'arte elettrice della fraternità dei laici dialogherà con Ingrid Roland italianista statunitense ripercorrendo il libro Basari collezionista delle vite dei grandi artisti che ripercorre il processo che portò alla redazione delle vite l'iniziativa fa parte delle celebrazioni per l'anno vasariano 16 spettacoli in 8 serate invece sono quelli proposti dalla Libera Accademia del Teatro che apre il lezzipario della rassegna impronte di teatro la prima settimana di saggi spettacolo della storica scuola retina in programma da domenica 9 a domenica 16 giugno alla teatro Pietro Aretino a rompere il ghiaccio sarà il gruppo degli attori adulti e gli ostinati che domenica 9 lunedì 10 giugno presenteranno Pigmalione ed Antigone e si avvicina la 145esima edizione della giostra del Saracino e torna anche per questa edizione il click day anche per la 145esima edizione della giostra del Saracino in programma sabato 22 giugno alle 20.30 la vendita dei biglietti come avvenuto per le ultime edizioni sarà gestita in collaborazione con la fondazione Arezzo in Tour in prima istanza attraverso il click Giostra Day che permetterà di prenotare online la possibilità di acquisto dei biglietti e ritirare i tagliani presso la biglietteria del percorso espositivo i colori della giostra in piazza della Libertà il form di registrazione e prenotazione sarà attivato giovedì 13 giugno dalle 15 alle 18 fino ad esaurimento ogni utente potrà richiedere un massimo di 4 biglietti non saranno ammesse deleghe per l'acquisto dei biglietti verrà generato un elenco di 130 utenti di cui 100 riceveranno entro venerdì 14 giugno alle ore 12 l'indirizzo di posta elettronica fornito un'email con indicata la fascia oraria di presentazione al botteghino altri 30 invece saranno considerati riserve le convocazioni saranno fissate poi per la giornata di sabato 15 giugno dalle 9 alle 19 una volta conclusa la vendita su prelazione dalle ore 9 di lunedì 17 giugno sarà attivata la vendita libera presso la biglietteria del percorso espositivo i colori della giostra sia per la giostra del saracino di sabato 22 che per la prova generale di giovedì 20 giugno anche in questo caso si potranno acquistare massimo 4 biglietti a testa per ciascun evento sempre da lunedì 17 giugno dalle ore 15 sarà aperta anche la vendita online attraverso la quale sarà possibile acquistare i biglietti del settore in piedi sia per la giostra che per la prova generale passiamo alla pagina dello sport è questione di ore per definire lo staff che accompagnerà Miss Emanuele Troise nella sua esperienza ad Arezzo lunedì in conferenza stampa il nuovo allenatore Amaranto aveva annunciato la presenza al suo fianco del vice Domenico Di Cecco e del preparatore atletico Matteo Basile per quanto riguarda invece il preparatore dei portieri si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno in Amaranto di Francesco Franzese verso la conferma anche della presenza di Luca Castiglia classe 89 nel team di lavoro con il ruolo di collaboratore di campo per il centro campisa si tratterebbe dell'inizio di una nuova carriera dopo quella d'alto livello come calciatore questa per stasera l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.